Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, il video di oggi sarà un terminati detersivi e beauty se mi vedete vestita uguali ad altri video è perché finalmente dopo settimane di tempo pessimo oggi c'è un bel sole, quindi ho deciso di girare più video per far sì che siano luminosi e più carini da guardare io non mi perdo in altre chiacchiere e iniziamo subito con i detersivi che ho terminato nell'ultimo periodo partiamo subito con i detersivi della cucina, il primo prodotto che ho terminato è questo sale per la lavastoviglie di copp che ho preso ovviamente alla copp, è questo qua, dice addolcisce l'acqua, azione anticalcare, azione anti-aloni della stessa linea c'è anche il brillantante e l'odorante che io però non ho provato e in più c'è il cura lavastoviglie è un prodotto comunque valido, non ho notato differenze rispetto agli altri sale per la lavastoviglie che utilizzo di solito e quindi se dovessi trovarmi senza sale sono da copp sicuramente lo ricomprerò avevo poi comprato da Tigota questo, della Green Emotion perché sapete che quando posso cerco di utilizzare detersivi ecologici questo cura lavastoviglie con profumo di limone con testativi biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili questo qui che è un cura lavastoviglie al profumo di limone appunto io l'ho utilizzato in lavastoviglie e devo dire che mi è piaciuto molto perché la lavastoviglie è venuta pulita è super super profumata quindi sicuramente quando andrò da Tigota lo riacquisterò questo prodotto ve lo avevo già mostrato ed è lo sgrassatore della W5 Nature che si trova da Lidl questo qua che somiglia molto a quello della Winnis ed ha una profumazione che sembra praticamente svelto che dire è un prodotto valido, costa poco, sgrassa bene io lo utilizzo soprattutto quando il piano induzione è particolarmente sporco oppure per pulire ovviamente il lavello e le altre superfici della cucina quando sono ingrassate quindi come azione sgrassante è molto ma molto valido l'unica cosa che ho notato rispetto a quella Winnis che magari vi ho già detto ora non ricordo è che questo qua si pulisce bene l'acciaio ma quello Winnis è secondo me un gradino sopra perché lo rende davvero davvero lucidissimo però per il piano induzione, per i top della cucina è super super consigliato quindi se lo vedete da Lidl visto che comunque è un prodotto ecologico che costa poco vi consiglio di provarlo perché sapete che io comunque quando posso cerco di utilizzare sempre prodotti comunque che hanno un basso impatto ambientale spesso costano molto di più rispetto ai detersivi tradizionali quindi secondo me quando si trovano questi prodottini diciamo a basso prezzo una chance io gliela darei insomma infatti glielo ho data e quando non trovo quello Winnis da Lidl prendo questo perché comunque mi trovo bene di questo ve ne ho parlato penso già milioni di volte ed è il multiuso per vetri cristalli tutte le superfici lavabili della Winnis che ha un profumo pazzesco che vi lascia per tutta casa allora io sui vetri e gli specchi non l'ho utilizzato perché preferisco usare un altro genere di prodotto però l'ho utilizzato sui top, sui mobili a volte anche per spolverare sulle ante della cucina per pulirle, sul tavolo, sul seggiorino di Mattias e devo dire che è veramente fenomenale soprattutto il suo profumo e poi ovviamente pulisce bene non lascia aloni e non lascia macchiato quindi se lo trovate anche questo super super consigliato questo prodotto qui mi era stato inviato diverso tempo fa da un'azienda e si chiama Sanapur, se non erro si trova su Amazon ed è praticamente un igienizzante a 360 gradi infatti c'è scritto elimina virus e batteri ideale per igienizzare ambienti e tessuti ha un odore tipo di amochina per intenderci può essere utilizzato anche nel sanificatore d'aria questa soluzione e può essere utilizzata come vi dicevo prima per i tessuti infatti qua ci sono disegnati il sanificatore d'aria il diffusore quindi di vapore il divano e i vestiti io l'ho utilizzato anche sul top della cucina, sul tavolo, sul seggiolone di Mattias su magari le bavalline eccetera e l'ho trovato davvero ottimo anche questo non macchia e comunque l'odore di disinfettante non è forte e quindi anche questo super super consigliato e ringrazio ancora l'azienda per avermelo inviato continuiamo ora con i prodotti del bagno dove ho diverse novità da farvi vedere allora la prima cosa che ho provato è il detergente WC gel candelgina a profumo di limone pulisce e igienizza, rimuove le macchie profuma e sbianca di Casa Cop con questo io mi sono trovata davvero bene perché non lascia il water macchiato nonostante comunque il colore se non vado errata perché nel solito diverso tempo che l'ho finito è verdino, si è verdino lascia il water pulito, profumato l'acqua scivola quindi fa anche azione anticalcare non costava neanche questo tantissimo quindi super consigliato poi sempre per il bagno vi ho fatto vedere in diversi vlog che ho scoperto questi dischetti WC gel 600 scarichi di freschezza alla profumazione muschio bianco che è questa e alla profumazione oceano allora qui mi tocca bocciare la profumazione oceano nel senso che il bagno resta sì pulito però non profuma mentre questa qua ha il muschio bianco infatti ne ho già acquistata un'altra confezione è eccezionale perché praticamente voi la mettete sul vostro water oltre a renderlo pulito perché ogni volta che voi tirate lo sciacquone va a profumare e pulire il vostro water con questo prodotto alzando la tavoletta venite proprio inebriati dal profumo quindi questa qua il muschio bianco è ottima e costa veramente pochissimo il marchio è utilissima e io l'ho presa dai cinesi poi sempre per il bagno super scoperta anche questo io l'ho provato in curiosità perché comunque anche questo è un detersivo ecologico a basso prezzo si trova anche questo da Lidl della linea W Nature detergente bagno eco anche questo è spettacolare non ha niente da invidiare a quello della Winnis non puzza per chi magari ha problemi di asma eccetera ha un odore che neanche si sente devo dire se ricordo bene perché adesso anche questo è un pochino che l'ho terminato si esatto ha un odore che non è sgradevole che non è comunque pesante tipo la candeggina, l'ammoniaco o altri anticalcare che hanno una puzza chimica incredibile anche questo pulisce bene sia i sanitari perché li lascia belli bianchi e belli lucidi e sia la rubinetteria in acciaio perché fa un'azione anticalcare e lascia la rubinetteria lucidissima addirittura forse rispetto a quello Winnis pulisce meglio questo comunque sono lì quindi anche questo super consigliato se lo trovate vi consiglio di prenderlo io l'ho utilizzato anche per i vetri del box doccia e anche lì è stato spettacolare abbiamo terminato anche questo Haust che è un deodorante per ambienti che utilizziamo soprattutto in bagno la profumazione è Clean Shint ha un buon profumo che comunque persiste non come altri deodoranti per ambiente che lo sfruttate, quel minuto lo sentite e il minuto dopo non c'è più salvezza delle salvezze per chi ha figli piccoli come il mio che mi scrive sui mobili diverse volte ha schizzato cibo sui mui secondo me è molto valida la gomma magica io adesso ho qua da farvi vedere quella della Mastro Lindo ma la trovate anche dai cinesi su Amazon si trova un po' ovunque da Ticosà di altre marche questa è della Mastro Lindo è quella originale costa un pochino di più ma le altre simili sono praticamente uguali fanno la stessa operazione sono delle spugnette bianche che vanno inumidite e passate dove avete voi la macchia ovviamente sui muri fate molta attenzione perché provate magari in un angolo nascosto e non sorfinate troppo perché altrimenti viene via proprio la malta mentre sui mobili anche lì trovate sempre in angolini nascosti dei vostri mobili però funziona davvero benissimo perché anche le macchie impossibili con questa vengono via io ogni tanto la utilizzo anche sulle ante della cucina perché magari io la pulisco spessissimo però in cucina scusate ho perso il cerchiello stavo dicendo però in cucina comunque quando magari si cucina si crea del grasso e avendo io delle venature del legno quindi delle scanalature del mobile a volte dentro proprio le scanalature si va a infilare lo sporco e il grasso e con questa la cucina viene come nuova quindi per chi ha la cucina simile alla mia bianca o con diciamo scanalature del legno è super super consigliata passiamo ora alla lavatrice con due prodotti scoperta il primo è l'assorbicolore della Rexal questo qua classico non quello con la bustina che quello non mi piace e questo è ottimo funziona praticamente come gli altri assorbicolore di marche più famose ma costa molto meno io quando vado a lavare per esempio dei vestiti nuovi ho i vestiti di Mattias che comunque macchiano e adesso che è un po' più granicello li lavo insieme ad i nostri vestiti e vado a metterlo per far sì che catturi appunto i colori e non si scoloriscano gli altri capi e mi ci trovo davvero davvero bene anche questo qua è stato una scoperta e funziona piuttosto bene ed è lo smacchiatore della Rexal Oxi Blue per tessuti bianchi colorati ce n'è dentro un chilo praticamente è dell'ossigeno attivo che io vado a mettere in lavatrice nella vaschetta del prelavaggio un tappino c'è all'interno anche il dosatore quindi è super super comodo e costa veramente poco lo vado a mettere nella vaschetta del prelavaggio dopo aver ovviamente pretrattato un attimo le macchie con dello sgrassatore e poi vado ad avviare il lavaggio ed è attivo già a 30 gradi e mi sono trovata bene l'ho trovato un prodotto valido che comunque non costa tanto mi sembra molto simile al Vanish quindi questo qua se lo trovate secondo me è molto ma molto valido io l'avevo preso non so se ve l'ho già detto da Eurospin passiamo ora ai prodotti per la cura della persona quelli che ci siamo ricordati di tenere perché a volte io a volte i job li buttiamo non ci pensiamo ho provato sotto vostro consiglio lo shampoo della Winnis questo qua uso frequente tè verde e betulla che avevo trovato da Lidl se non erro mi sono trovata molto ma molto bene perché lava bene i capelli ha un buonissimo profumo li lascia super lucidi e super super morbidi l'unica cosa rispetto ovviamente agli shampoo più chimici fa poca schiuma però comunque i capelli vengono ben lavati quindi voi non guardate che fa poca schiuma guardate poi il risultato finale sul capello e il capello veramente viene lucido morbido e ben lavato abbiamo anche terminato un dedoran eh sì un dedoran abbiamo anche terminato questo bagno schiuma della Sien menta e limone con mentolo e lime ci siamo trovati bene io mi trovo bene con tutti i bagno schiuma che prendo da Lidl sono profumati lavano bene fanno buona schiuma e comunque lasciano sempre la pelle abbastanza morbida quindi non trovo grosse differenze rispetto ad altri bagno schiuma di altre marche più blasonate ho terminato anche che è il mio dedorante preferito il linfasil neutro extra delicato antimacchia anche su capi colorati questo dedorante qua allora questo qua quando lo spruzzate vi lascia una sensazione di freschezza sensazionale e in più ha un profumo molto ma molto delicato ma super super persistente ed è molto delicato sulla pelle perché a me è successo io utilizzo spesso il dedorante della Borotalco e mi è successo praticamente di avere un male pazzesco all'ascella e non capire da dove provenisse praticamente mi si erano ingrossate le ghiandole perché il dedorante col Borotalco non faceva uscire il sudore quindi si sono gonfiate queste ghiandole avevo un male pazzesco e poi leggendo su internet ho letto che può essere causato da deodoranti quindi sotto consiglio di mia mamma che quando abitavo a casa sua comprava solo questo ho comprato questo qua e devo dire che è molto più delicato profuma e lascia proprio la sensazione di freschezza quindi super super consigliato e mi sento di dirvi anche state attenti ai deodoranti perché potrebbero causarvi quello che ha causato a me vi giuro che l'ascella mi faceva malissimo non riuscivo neanche ad alzare il braccio ed era veramente ma veramente gonfissima eliminando quel deodorante lì per un po' non ho messo proprio deodorante e poi utilizzando solamente questo ho risolto il problema abbiamo anche terminato questo sapone con antibatterico della Bio X Care che io ho utilizzato per Mattias l'avevo acquistato al supermercato ormai diverso tempo fa l'ho utilizzato per lavargli le manine quando tornavo insomma da scuola pH 5,5 igienizza rispettando il pH della pelle igiene sicura sapone liquido con antibatterico deterge delicatamente la pelle formula arricchita con tetrioli ingredienti naturali dalle note proprio tanti batteriche ed igienizzanti ha un buonissimo profumo molto ma molto delicato a Mattias non ha creato nessun tipo di problema ovviamente io l'ho utilizzato solo sulle manine e magari sui piedini per lavardeli alla sera e ci siamo trovati bene quindi se lo trovo sicuramente glielo riacquisterò soprattutto per lui per dargli quell'azione un po' più pulente delle mani ho terminato anche questo siero concentrato bifasico rigenerante da notte della Yves Rocher questo qua con questo io mi sono trovata molto bene la linea anti-age global rigenera proprio la pelle cioè bastavano pochissime goccine non lasciava unta la pelle e già in pochissimo tempo ho visto proprio la mia pelle migliorare e quindi sicuramente più avanti lo riacquisterò ha una profumazione come tutte le cose di Yves Rocher molto delicata e mi sono trovata bene quindi vi consiglio anche questo c'è proprio tutta la linea c'è anche la crema c'è tutto però io mi sono trovata bene soprattutto con il siero nulla i prodotti sono terminati io spero con questo video di avervi tenuto compagnia ma soprattutto di avervi magari dato qualche spunto utile vi mando un grossissimo abbraccio un immenso bacione vi ringrazio come sempre per tutto l'affetto che mi dimostrate e a che nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto ciao ciao